Sì, però insomma rende bene qual è la situazione e anche qual è la distanza, la differenza tra l'Italia del nord, si dice sempre l'Italia produttiva del nord e l'Italia invece del sud. Sì, però anche in questo caso bisogna dare nome alle cose, nel senso la povertà purtroppo c'è sempre stata, è in aumento ma a farla sono le leggi del post-caduta del muro di Berlino, c'è la globalizzazione, il neoliberismo selvaggio, il capitalismo. Quello che vogliono fare è che l'Europa, che cosa vuole l'Europa? Non vuole lo Stato all'interno del mercato, ecco quindi che bisogna privatizzare tutto, ecco che bisogna lavorare di più, ecco che bisogna avere i salari più bassi, è un gatto che si morde la coda, la povertà può assolutamente essere sconfitta o quantomeno arginata, vogliono farlo. Approfitto per chiederle, su Roma quali sono le due cose più importanti che lei farebbe? In primis il lavoro, quindi coinvolgere i lavoratori, soprattutto i disoccupati delle periferie, proprio una volta reinternalizzato ogni tipo di servizio, i trasporti, la sanità, gli sportelli per le donne, sono tantissimi punti del programma, ma diciamo che i lavoratori disoccupati, i cittadini come pazienti, l'abbiamo visto che quella che era una razionalizzazione è stato invece un massacro sociale nella sanità, e i trasporti nei quali penso di essere la più competente in Italia sono i punti prioritari. Grazie.